Estese nubi di fumo, odore di bruciato nell'aria, la Sicilia occidentale va a fuoco. Nonostante il calo delle temperature, che ieri ha raggiunto picchi di oltre 40 gradi, non è ancora cessata l'emergenza incendi. Sale a 650 il numero delle operazioni effettuate da 250 vigili del fuoco nelle ultime 48 ore, con 70 mezzi antincendio e 7 canader. Fiamme estese da ieri pomeriggio su Monte Pellegrino, a Palermo, dove una squadra sta ancora lavorando per estinguere l'incendio. Alberi, sterpaie e macchia mediterranea hanno preso fuoco avvolgendo la città in una densa nube di fumo. Incubo per i cittadini di Cefalù, Lascari, Gratteri e Collesano, invitati a lasciare le loro abitazioni per precauzione. Gli investigatori al momento seguono la pista dolosa chiedendo l'intervento della scientifica. Il rogo più vasto si registra a Collesano, estesosi sulle Madonie per chilometri. Colpiti anche in Ebro, Di Agrigento e Caltanissetta, a Capodorlando ha preso fuoco il punto vendita Brico Center, avvolto completamente dalle fiamme a causa dei molti prodotti infiammabili al suo interno. Evacuato anche l'asilo nido il girasole a Monreale, in provincia di Palermo, dove una cinquantina di bambini sono rimasti intossicati dal fumo e trasportati all'ospedale Ingrassia per poi essere dimessi poco dopo. Due ostionati nel messinese, si tratta di un uomo di 46 anni colpito dalle fiamme mentre cercava di scappare in macchina e di un 19enne ostionato al 20% e trasferito all'ospedale civico di Palermo. A causa dell'emergenza sono state interrotte le principali linee ferroviarie regionali con collegamenti sospesi da Palermo verso Messina, Catania e Grigento fino al nulla osta dei vigili del fuoco. In tilt anche le autostrade, chiusa la Palermo Messina tra Bonfornello e Castelbuono, riaperta soltanto alle 4 di questa mattina, anche se lungo il viaggio si intravede ancora qualche focolaio acceso. Nell'aria c'è ancora un odore acre e si iniziano a contare i danni di quella che è stata una giornata infernale.